Il nuovissimo filo tematico di casa Maver si chiama Special Sea, un filo anti abrasione ideale per essere utilizzato come in questo caso nella pesca sottoriva perché pescando con il filo leggermente in bando comunque il filo è sempre a contatto con la sabbia o con le pietre quindi è fondamentale utilizzare un filo anti abrasione. In questo caso abbiamo imbobinato uno 018 diretto ovviamente senza shock leader di colore neutro perché andiamo direttamente vicino alle esche con un filo trasparente. Il filo è disponibile in bobine da 300 metri a partire dallo 016 altissima tenuta a nodo e resistenza incredibile anche dopo ore che il filo è in acqua.